Gli insetti impollinatori su tutti i api e farfalle sono fondamentali per il benessere dell'uomo e degli ecosistemi, garantiscono infatti la riproduzione delle piante e gran parte del nostro cibo. Per contrastarne la scomparsa, il FAI ha creato nei propri beni degli spazi favorevoli al loro benessere, come nei giardini di Palazzo Moroni, dove in occasione della riapertura al pubblico nel giugno 2020 è stato piantato un giardino per le farfalle e sono state lasciate a Prato Alto ampie aree fiorite. Qui api, farfalle e bombi possono trovare rifugio e nutrimento e così in tanti altri luoghi del FAI, dove insieme agli apicoltori locali abbiamo installato delle arnie, un'occasione per tutelare le api e raccontarvi l'importanza della loro conservazione, come al monastero di Torba in provincia di Varese che oltre alle arnie custodisce nella sua torre i resti di una rondonana, un elemento architettonico unico protagonista di una nuova iniziativa del FAI, il progetto Rondoni. Seguici sui canali social per scoprire la prossima puntata.